Corpora è per la tua salute, la salute è anche sport, il nostro sport è uno sport di squadra, la nostra squadra è di pallavolo, la pallavolo è il nostro lavoro, il tuo lavoro porta a vincere, vincere è il nostro obiettivo, il tuo obiettivo è nato a Griciniano, Griciniano che gioca in Serie A, perché il Corpora è da Serie A, Griciniano che gioca in Serie A, perché il Corpora è da Serie A. Grazie per la visione! Grazie per la visione!